Il salumaio alla via Benedetto Gravagnuolo a Cava dei Tirreni vi aspetta nel proprio punto vendita per farvi gustare formaggi e salumi delle migliori marche. Siamo aperti anche la domenica mattina. Presentato ieri mattina presso la Sala Gemellaggi del Palazzo di Città di Cava dei Tirreni il Premio Letterario Nazionale Equilibri, indetto dall'Associazione Culturale Piazza Navona. Il concorso, nato da un'idea della scrittrice e presidente dell'Associazione Chiara Ricci, in collaborazione con il fotografo Gino Aloisio, intende mettere al centro del dibattito culturale l'equità verso i testi che parteciperanno e l'equilibrio da raggiungere fra la media e piccola editoria. Il bando è partito il primo giugno e terminerà il 31 ottobre 2018. La serata finale appunto sarà il 26 gennaio proprio qui nella Sala di Rappresentanza dove siamo ora e il concorso è aperto a tutti gli scrittori che hanno appunto raggiunto la maggior età che hanno opere edite negli ultimi cinque anni, sia in formato ebook che cartaceo. Le sezioni saranno cinque, quindi ci saranno romanzi di ogni genere, racconti, saggistica, poesia e abbiamo aggiunto anche libri per l'infanzia perché anche questo genere di letteratura è importante perché è bene formare anche i bambini che poi saranno i lettori di domani. A giudicare le opere in gara saranno professionisti del mondo del giornalismo, dell'editoria e della cultura italiana e internazionale. Un concorso letterario serve per far camminare anche la cultura, per premiare la cultura. Quindi la cultura deve camminare ma deve camminare la cultura, non deve camminare la cultura. I libri vengono scritti da scrittori, non vengono scritti da calciatori o da altri personaggi che fanno altri mestieri. Chi fa lo scrittore deve scrivere, non si deve mettere a giocare a pallone e viceversa perché altrimenti il danno è duplice. Il personaggio noto televisivo o per altri motivi vende e lo scrittore che fatica per dare dei messaggi non vende. E questo è un danno che si porta ovviamente anche all'editoria. Per cui fare un concorso che sia equilibrato significa soprattutto diffondere la cultura. Io credo che iniziative come queste servano. L'Italia ha bisogno di cultura, ne ha bisogno molto, molto, molto. Io sono un po' preoccupato perché leggo in contratti di governo che la voce cultura è un po' tralasciata. Noi ne abbiamo bisogno perché la cultura è l'unica cosa che può salvare la nostra terra, la nostra patria. Pensiamo solo alla Regione Campania e alla grande ricchezza culturale che ha.